Prendi lo strato Dopo raga portiamo la scala in qua Dopo portiamo la scala in qua per farlo salire Dalli corda? Ma già lui si sta preparando per annarsi Ma già lui si sta preparando per annarsi Ma già lui si sta preparando per annarsi Ma già lui si sta preparando per annarsi